Nel frattempo però a Bologna sindaco si sgomberà uno storico centro sociale Non è nel frattempo, è proprio collegato Non è nel frattempo, diciamo in queste ore Sarà una coincidente Mentre parliamo in quello che è comunque sempre stata storicamente una roccaforte diciamo del movimento, dei movimenti Napoli ha gli anticorpi per resistere a questo o anche a Napoli in un futuro prossimo dovremmo abituarci a queste scene? Innanzitutto solidarietà al centro sociale sgomberato perché nella città di Napoli da quando sono sindaco non si effettuano sgomberi e anzi le esperienze di collettivizzazione della rigenerazione urbana dei territori sono diventati fatti giuridicamente rilevanti ad esempio con le delibere sui beni comuni che tanti luoghi che nel passato venivano sgomberati oggi sono luoghi della vita civile democratica della nostra città ne potrei fare tanti, il primo è stato l'ex asilo Filangeria adesso abbiamo chiuso anche la partita con l'ex OPG che diventa un luogo giuridicamente nella disponibilità della città quindi Napoli è un laborato, non ha gli anticorpi Napoli è altro Napoli non è la tolleranza Napoli non è solo la politica contro questa forma di sgomberi Napoli è la città che ha costruito un percorso giuridico per rendere meritevoli di tutela sociale, giuridica, istituzionale, amministrativa esperienze di autogestione, autogoverno e di trasformare luoghi del degrado in luoghi della vita democratica di un consesso cittadino Napoli è il laboratorio, Napoli è alternativa ma assolutamente questo governo sta creando le condizioni perché a livello nazionale possa accadere sempre di più quello che l'altro giorno è accaduto a Torino oggi accade a Bologna, l'altra volta accade a Roma a Napoli non passano perché Napoli ha gli anticorpi sociali e civili ma a Napoli c'è l'amministrazione dei magistris e quindi questo non passa ma quando costruisci leggi nazionali la resistenza può rischiare di diventare una roccaforte e se la roccaforte è fatta solo di resistenza e un po' alla volta ti tolgono ossigeno, acqua e viveri è chiaro che l'operazione è quella di fare in modo che esperienze come quelle di Napoli siano residuali o che prima o poi vengano sconfitte ed è per questo che noi dobbiamo passare dalla fase della resistenza alla fase del contrattacco perché questo tipo di politiche sono molto pericolose che sono politiche sicuritarie, autoritarie politiche del manganello politiche che dividono il paese l'Italia oggi ha bisogno di coesione se no non riparte l'Italia ha bisogno di rimettere insieme storie differenti l'Italia ha bisogno di rimettere insieme come l'esperienza che abbiamo fatto col sindaco Sala Napoli e Milano due città molto diverse due sindaci molto diversi ma che dialogano Salvini e questo governo creano mura, firospinato, divisione, rancore violenza, odio, razzismo quindi creano le condizioni per cui a un certo punto per giustificare la loro incapacità ad aver costruito un paese migliore diranno che è colpa dei poveri è colpa degli emarginati è colpa dei centri sociali è colpa dei sindaci ribelli perché ha le condizioni per una svolta autoritaria ecco perché si deve innalzare il livello di vigilanza democratica di mobilitazione politica e di costruzione dal basso di un'alternativa politica culturale, sociale, economica e istituzionale a questo governo e a questo tipo di maggioranza grazie a tutti grazie a tutti